Roberto Galli, 23 anni che fa la Milano Taranto, quindi uno dei più diciamo anziani concorrenti per le partecipazioni, però fa l'assaggiatore, non fa la gara, come mai? Allora, ho fatto la gara per 19 anni, poi ho deciso di fare l'assaggiatore perché intanto il percorso è lo stesso, la fatica è la stessa, non c'è l'ansia di fare la classifica, i controlli orari, lo stress della gara e poi lo spirito della Milano Taranto, secondo me, come dice anche Sabatini, fare una bella gita, una gita che dura sei giorni in compagnia di amici, questo non vuol dire che fare il concorrente non va bene, va bene, però io non ci tengo più, preferisco fare il turista, è un modo di andare in moto diverso da prendere l'autostrada e fiondarsi a 180 l'ora, il sentire ancora il rumore del motore, i profumi, guardare il paesaggio, una serie di emozioni che con la moto d'epoca si è anche costretti a subire perché per forza non vanno.